L'obiettivo finale è quello della programmazione ordinaria che a regime nel 2015 consentirà di affrontare le problematiche del verde pubblico attraverso un finanziamento pluriennale ed interventi ordinari. Alla presenza del vice sindaco ed assessore all'ambiente Tommaso Sodano e del consigliere comunale Carmine Attanasio è stato presentato il programma per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 40.000 alberi di alto fusto presenti nella città di Napoli con risorse pari a 1.100.000 euro. 500.000 euro inoltre saranno spesi per acquistare due piattaforme aeree e 5 automezzi ed ancora 300.000 euro per il censimento fitosanitario degli alberi, 120.000 per la lotta antiparassitaria ed oltre 2 milioni per la gestione e la manutenzione di 13 parchi cittadini fra cui quelli dei Camaldoli, Scampia, San Giovanni, Secondigliano e Sanità. Effettivamente abbiamo destinato risorse in tutti i quartieri della nostra città e in tutte le municipalità quindi non solo i parchi più noti come possono essere quelli appunto della villa comunale e altri ma tutta la città, tutti i quartieri, tutti i luoghi. Speriamo che i cittadini poi ci aiutino a mantenere meglio il verde e poi uno stimolo a tutti a lavorare anche di più quindi a coloro che hanno il compito istituzionale di manutenere che lo facciano bene perché c'è bisogno di grande cura per gli spazi vivibili della nostra città. Nel piano sono previsti inoltre 100.000 euro per le attività legate all'affidamento di aree verdi adenti, associazioni e privati cittadini. Oltre ad interventi importanti per le aree di piazza Caluterzo, di via Iannelli e della villa comunale, la ricostituzione del patrimonio arboreo già esistente e la messa a dimora di circa 3.000 nuovi alberi su numerose strade del vomero e del centro. Molte risorse per nuovi alberi nella nostra città, per sistemare meglio parchi e giardini, per le potature, per realizzare più aree verdi, più irrigazioni, più giochi per bambini, poi starà tutta la città a mantenirli perché poi la rabbia a certe volte è impiegare risorse, sistemare aree che poi vengono vandalizzate, quindi anche l'affidamento di più aree coinvolge le associazioni, coinvolge il territorio, le municipalità, sono tante risorse, vanno spese bene, presto e credo che sia anche un messaggio forte, una città che è sempre più verde, quindi con un'area più respirabile e più socialità per tutti. Grazie a tutti.